E ragazzi io sono Ferini e io sono Steph e che sto giochendo a Hashi Washi Washi Hashi, yeeey Ce l'avevo scherzare perfettamente, ma è troppo carino Allora, da quello che ho capito questo gioco funziona in questo modo Noi dobbiamo pulire i piedi di un gigante Ok Ok, allora, guarda Praticamente non so se te ne sei resa conto ma è un gioco fatto per il VR Che si può giocare anche dal PC, noi lo stiamo giocando ovviamente dal PC Si E dovrebbe essere abbastanza semplice, avete ci fa vedere, capiamo il menu Ci possiamo abbassare, movimenti, utilizza strumenti, troppa strumenti eccetera eccetera Salta, ok mi sembra abbastanza semplice Niente di troppo complicato C'è pure la questione di high score che immagino sia quanto poco tempo ci metti a pulire Si, si Ok, perfettamente La grafica del gioco è davvero carina e guarda che bellino Devi girare e premere play Allora, però non è molto carino il piede del gigante Ma, 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 cioè Pensavo dovessimo accudire un piede e figli ok Ma, ma, ma questo è un disastro Allora, questo è tipo terriccio con un po' di pupù probabilmente calpestata Qua abbiamo dei veri e propri funghi Un ecosistema di funghi che crescono Sì, sì Io ti voglio chiedere, cosa sono queste cose gialle? Mais Mais? Come sembra mais? E dove l'ha trovato del mais? No, non lo so E non lo voglio sapere, Steph Guarda che belle uno Questo è uno scivolo Allora, a parte gli scherzi Credo che dobbiamo andare in giro per la casa Ok A cercare gli utensili per poter pulire i piedi di sto gigantone Ok, che non avevo la minima idea di dove possono essere Controlla nella lavanderia Beh, allora, secondo me, ad esempio, qua in bagno qualcosa Ah, vedi? Tipo questo Ok, si prende con E Adesso lo stiamo tenendo in mano Secondo me, una bomboletta verde serve per i funghi Che dici? Sì, sì, sì Perfetto Poi, numero due Altro fungo lì sopra Ok Funziona fino a un certo raggio Quindi quando lui poi si alza È un po' un problema Però io posso anche saltare E quindi risolviamo un po' un problema Tipo quello lì in alto era un po' tosto Ok, allora I funghi li abbiamo tolti Adesso ci servono gli strumenti per togliere il resto È enorme sta casa Questa è chiusa Qua c'è l'ingresso Ok Ok Forbici Forbici per le unghie Le unghie Certo Queste non sono forbici Sono tronchesine Beh, guarda qua Devo tagliare Non capisco se devo stare attento Sì, sì, sì No, non credo Non credo Oddio, non gli taglio un dito però, eh Ma no, sembra che non si possa Sembra che non si possa Per fortuna Mi è venuto un po' d'ansia Aggiungo Sì, per fortuna Allora, ok E questo l'abbiamo fatto Qui in zona Ok Perfetto Cos'è? È un asciugacappelli Terra? Perché? No, non avrebbe senso Il mais o quello che è? Ma sono cresciuti altri funghi? A quanto pare possono ricrescere Ok Ok, quindi con il phon Noi togliamo Qualunque cosa sia questa Sì, non ho idea di cosa sia Perché sono sempre più confuso Su che cos'è Saltella E dai Boh Non capisco Allora, da ora in poi Gli oggetti li lascio qua Allora, dato che continuano A ripoppare le cose E qui non credo ci sia nulla Di nient'altro Questo non è prendibile No, no, no Si illuminano gli oggetti prendibili Questa ci riserve Dato che A quanto pare I funghi sono ricresciuti Sì, evidentemente Se ci metti tanto tempo Peggiora Capito? Sì, quando possiamo salirli Sul piede Non lo so Prova Eh, più o meno Più o meno Dai, gigante Smettila Devi stare fermo Altrimenti Sì, fa Ok È molto più efficiente Bello, sì Sì, sì, sì Ok Ok, perfetto Ok, vai, vai, vai Uno Adesso ci manca questa specie di terriccia Come lo leviamo? Non lo so Ne abbiamo la più pallida idea Non abbiamo trovato nulla Per togliere il terriccio Eh no Questo, che cos'è? Steph, sta finendo il tempo comunque Non lo so Hai otto secondi Ah, certo Mezzo Vabbè Un piccone Due secondi Non ce la faremo mai Cioè mi mancava Calmo eh Mo ti schiaccio Secondo me però Comunque è abbastanza soddisfatto Ok No, sta dicendo qualcosa Sto piede parla Sì, ti ha schiacciato Tu sei meritato però Che poi avevamo anche le mosche Ti ho tagliato le unghie Ti ho tolto i funghi Ti ho tolto quei cosi gialli misteriosi Nei commenti scrivete che costano quei cosi gialli Perché sono curioso È stato lento Eh, va bene Dovevo un po' ambientarmi Forza, dai Adesso abbiamo capito Ok Ok, corriamo Saranno sempre nei stessi punti Non è la più pallida Andiamo a corri Stai zitto brutto gigante Sì Vabbè Evidentemente ho fatto a livelli E mi sembra anche giusto Che sia così Opla Ok, sta lì Ok Ok Uno Questa volta la faccio velocissimo Vai Due Tre Niente un altro al lato Quattro Lì, vedi Bravissima No No, non lo stai facendo Vabbè c'è anche questo Che schifo Quanti ne hai però Ma dov'è essere il piede Però ho avuto sfiga Cioè è molto più roba di prima Forse te lo fa apposta Perché stai riniziando Lo stesso round Ah, può essere Può essere Ok, calmo gigante Ok, c'è anche sporcato Tutto il tappetto di caldo Non era bella cosa Questa è chiaramente Con che terra Di qualunque tipo Anche se S'era tipo dei minerali dentro Un casino Ok E con questo abbiamo finito Poi ci serve il phon Sì Che stava qua E abbiamo finito Sì Cioè non ho visto altri oggetti Cioè le mosche Ah no, le unghie Le unghie, le unghie Ecco qua Stavamo dimenticando Le mosche Non so se si tolgono in automatico Secondo me sì O se vanno tolte In qualche modo Ma non mi sembra Che abbiamo visto altri oggetti Guarda che bella visuale da qua Bella, sì Soprattutto con quelle unghione Allora Le tronchesine Sì Che sono tutto in fondo Qua alla sinistra Guardate come mai Mi ricordo tutto a memoria E ora proprio li taglio tutto Anche a rischio di tagliarli Le Dita Dita Dei piedi Non ti lamentare Ok Dai Finito Eh no Le mosche Le mosche Te l'avevo detto Pieno di sopra Steph Non l'abbiamo mai visitato Pieno di sopra Per forza Corri Che brava Che fere raga Lo so Che brava Che fere E vabbè ma quindi Quello 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 Le mosche La paletta Mi sembra giusto Si mi hai visto che ha forma di piede Sì Oh Stiamo scherzando Va bene Bene Cioè ti stanno rispondendo Comunque Ok Cioè è difficilissimo Concentrati Cioè è solo il primo livello Mi fa male l'avambraccio È solo il primo livello Fermo gigante Devo salire sopra Altrimenti è impossibile per me Concentrati Quando fa il giro Ok E schiatta L'ultimo No ce n'è un'altra Fere Davvero Eh vabbè Non ce la farei mai Al volo Stef Già non ce la faccio Normalmente Stef Sette secondi Non permetterti ansia Fere Non muore Dai non puoi perdere Per una mosca Stef Non puoi aver perso per una mosca Stef Ho perso per una mosca Stef Facciamo se fosse al primo livello Fai tu No grazie No no Tu hai butto Dai tu Mi fa male il braccio Ok Che noioso che sei Esatto esatto Sto perdendo un botto di tempo Ok Dai ma questa cosa non va bene Cioè non va minimamente bene Stef Lo so Ok Precordati come scendere Ok Vabbè bravissima Ok Se ti abbassi è un po' più preciso Non so Ok Maledetta Schiposa Dai questo è semplice Troppo vicina Non lo so Fere Fa bene il nervoso Ok Si che fa bene il nervoso Lasciati l'ultima per dopo No mi manca ancora il mais Comunque non ce la farò mai Si un minuto è tanto Salta troppo comunque Dai Ok Allora Aspetta Muoviti con quel piedone Devi essere veloce Fai venire il nervoso Ok 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 Dietro forse Si Un altro Se lo ricordo male Si Poi vai a prendere il phon Butta Dov'era Ehm Qui Perché non me lo ricordai Sinistra Qui Si Ok Prendi me la Ok Sopra Si sali 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 Non ce la farò mai Vai tranquilla Perderò per un'unica mosca Te lo dico eh Vuoi copiare il mio destino? Si Non la posso bruciare Con Dai Dunque Si è mais Fai il popcorn Vedi Abbiamo avuto la conferma Però Fere Non dovevi cadere Mi ha spinto lui con le ditona Mi ha spinto lui con le ditona Vai nel tallone Eh ma rimane con l'accidente di mosca Prendi la paletta al volo Dai Dov'è 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 Non la trovo Lì Eccola Ah Dai ti prego Perché non mi prendi gli oggetti Comunque dovresti cambiare tasto Viene F Per prendere gli oggetti Non è Sarà che essendo nato per Per VR Magari è stato Capito Quando l'hanno portato Anche per fish Normale Ma gli non sta roba Secondo me Vai Ciao qui fa Stef È il tuo momento Capito qual è Il problema Si 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 Lo so qual è il problema Ne mancano due vero Si Tu devi morire Tu devi morire Tu devi morire Dai Accidenti Ma come è possibile Sta roba Ok Una Dov'è l'hitbox Di questa roba Lo so Vai schiaccia 10 secondi Ti prego A 6 secondi Dalla fine È eccessiva Sta roba Delle mosche Davvero 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 Eccessiva Non possono essere così Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Questi sono I punteggi Di tempo rimasto Per le persone Hanno inizi I massimi 11 secondi Qua sono riusciti a fare Con 45 secondi Di avanti Ti ripeto Probabilmente Warrash Pim 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 Te la prende subito Non lo so Secondo me Noi scatti Schiacciamos Comunque Ci fermiamo così Qua sotto Compariranno Altri video Come sempre Supportate questi giochini Questo qua è ovviamente Episodio singolo Semplicissimo Di quelli Pa 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 Giusto per farci impazzire Con un piede di gigante Di quelli terribili Ci fermiamo così Ciao ciao